Ciao a tutti, questa è la nostra scuola e queste sono le nostre piccole azioni per un futuro migliore. Con due canzoni e una coreografia abbiamo vinto il contest di scuola a Tewa Kids e Junior negli ultimi due anni. Noi tifiamo positivo e pratichiamo gli sport della mente che ci hanno portato alle finali nazionali dei campionati studenteschi di scacchi a squadre. I progetti Cambridge, Erasmus e Lingua Sarda aprono i nostri orizzonti. I pazzi ci ha portato a Bergamo e Samantha Cristoforetti a Milano. Noi facciamo un uso responsabile dell'acqua. Noi, il cuoio rosso-blu, sappiamo che l'acqua è oro-blu. Non si spreca, niente! Ecco la nostra eccarea e la nostra serra idroponica. Grazie al Polo per l'infanzia seguiamo obiettivi comuni per crescere insieme. Il cortometraggio Il ragazzo della grotta ha vinto il premio Paolo Gobetti. Proteggiamo la biodiversità aiutando le piccole produzioni. Una gitta al mare si trasforma in un'occasione per aiutare il pianeta. Abbiamo scelto di proteggere questi monumenti. Vorrei tu fossi sempre primavera. Il nostro accordo sulla legalità. La legalità è non essere indifferenti. Il racconto basato sulla lealtà e l'amicizia di scrittori di classe ci ha visti tra i dieci finalisti del concorso nazionale. Questi e tanti altri sono i lavori sulle tematiche dell'Agenda 2030. E questi siamo noi, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fernando Meloni Tito Musnovas Sono i capelli di dominate. Buásticurizzare! Come un uomo che Bolt ha avuto il concorso sull'inizio. Sìmane l'Istituto, il nostro interagio di gespanntienti. Esa domandola la legge. Condamm30 per usate il tempo. Come un uomo che sono i dati i privi.